I nomi, i nomi, io lo stavo già, a di no, pronti, tutti insieme al premio, Raffera, arrivano i nomadi, ELA, eccoli, ELA, buonasera, 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 da te i galletti, io i cellori, buonasera, E' straordinario, straordinario, ebbè qui c'è un pezzo di storia della musica, oggi ne parlavamo a legna verde, delle evoluzioni dagli anni 60 e poi, però i nomadi questa sera hanno deciso anche di farci ascoltare canzoni, almeno un paio se non sbaglio, non scritte direttamente da Olio e Carletti, ma per esempio da Pugno di Sandia, che non è vostro, ma molto, un grande successo, grazie a voi. Eh, 70, e poi 72, arriva Pugno di Sandia, ancora, non è vostro, è vagabondo, che poi fa in giro, perché lo prende da Nannini, lo prende da Lavanoni, grazie a voi, sì, è questo, ma stasera lo facciamo a voi. Complimenti per lo strumento, grazie. E allora, li abbiamo presentati tutti insieme, vi stavamo aspettando e vi lasciamo il panico proprio buono. Grazie. I nomadi! Eccoli! Grazie. 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 Grazie.